tu devi stare al sole perché sei la mia meridiana allora eccoci qua al nuovo video di oggi spero che stia registrando bene eccoci qua nuova puntata di tec nostalgia dedicata al mio nuovo telefono che siccome non è più tanto nuovo perché è uscito tipo a maggio giugno va nel video della roba vecchia anche se per me è nuovo tutto chiaro no perché ho in mano sto coso non lo so infatti adesso lo rompo ci provo a romperlo non si rompe mannaggia ma ne troverò uno di quelli quindi questa è la roba anni 80 che nessuno riesce mai a rompere immortale indistruttibile e funziona anche molto bene come arma avete presente quelle armi giapponesi fatte tipo la palla di gogo quella di kill bill volume 1 ecco è pericolosissimo anche questo voi prendete un bellissimo joystick del 1988 gli togliete la boccia di protezione e diventa una cattivissima arma tipo questa ecco vedete io lo sbatto per terra e lui non si rompe e allora vai al diavolo che bello non devo neanche mettere gli effetti speciali di bim bum bam perché basta tirarlo per terra e ma che capelli lunghi che fighette basta non tagliarli comunque cosa stavo dicendo sì ecco il mio nuovo telefono che è un bellissimo motorola moto e 4 plus e la gente penserà ma che accidenti hai comprato e non lo so neanche io però era in offerta e allora adesso fondamentalmente vi vado a spiegare perché e per come ho scelto quel telefono lì piuttosto che qualcosa di figo tipo un bel iphone 10 mmm 1440 euro di niente comunque e questo è il volantino di un noto supermarket col volantino blu e arancio siccome la mia casa è blu e arancio la mia anima è blu e arancio io vado dove tutto blu e arancio e quindi era in mega offerta totale globale a 139,99 ve lo vedete qui sotto sotto prezzo giusto sotto sotto prezzo che bella battutone sto dicendo di quelle menate in questi giorni che sarà l'autunno che mi dà in testa davanti a me c'era un tizio di colore che ha comprato un telefonino più sfigato di questo e voi immaginatevi e sapete l'ha pagato con i buoni pasto ci ha tirato fuori alto così di buoni pasto in mano aveva un torsolo di mela mangiata ha messo in tasca il torsolo di mela e nell'altra tasca aveva i buoni pasto con cui ha pagato il telefono e io pensavo ma no questo non è un negozio di alimentari vendono elettrodomestici quindi questo qui è stato 15 giorni o magari 20 o 30 a mettersi da parte i buoni pasto rosicare sempre la solita mela o forse era una pera non lo so però penso fosse una mela perché lo vedo più più lanciato verso la apple comunque è stata una cosa molto ma molto surreale io invece che avevo un po di euri ma pochi mi sono dedicato al motorola e la gente quando mi dice ah ma hai cambiato telefono si che cosa hai preso un bel motorola e4 ma esiste ancora la motorola e si nel 1995 andava fortissimo adesso un po meno però comunque c'è ancora quello è un telefono di fascia medio bassa sono andato a e voi dite ma vai solo la scatola no no ho fatto anche il telefono ci ho già messo anche la cover quella arancione perché a me l'arancione piace il mio colore preferito oh mi spiace lilli ma a me piace l'arancione dunque ci ho già messo anche il vetro di protezione comunque senza cover c'è proprio senza spaccare tutto allora questa è la cover mo l'ho tolta questo è il telefono con la m di m è il mio cognome tra l'altro potrei dire no no ma guarda che è mio però l'inizio a partenza l'iniziale il mio cognome questa è la m di mac motorola e sopra davanti c'è scritto quando l'accendi c'è scritto moto qua sopra c'è scritto moto comunque 5,5 di da display risoluzione hd base quindi h720 non è full hd non è super full hd come cavolo si chiama le 1440 per 1080 accidente è quella la metà quindi 1080 per 720 e ha un processore bello lurido è un quad core non snapdragon non è qualcos'altro di molto più scarso quindi se volete video giocare col telefono lasciate perdere doppia fotocamera ovviamente doppia video fotocamera davanti e dietro davanti così 5 megapixel fronte mi sembra 16 14 o 16 ma forse 16 e non non è delle migliori ma nemmeno delle peggiori media per il resto i motivi per cui vai a cambiare telefono dopo che avevi un Huawei 535 e che a parte che era più piccolo e non era più di moda perché poi tutte le volte che vai in un posto dove c'è gente un pochettino più tecnologica tu arrivi tutto tecnologico così tuns 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 vestito super tecno e poi tiri fuori il tuo telefonino di due anni fa e ti dicono eh ma è vecchio eh ma è brutto eh ma è piccolo ce l'hai piccolo ce l'hai piccolo e lo so che ce l'ho piccolo però adesso ce l'ho più grande e quindi 5,5 di diagonale chi se ne frega adesso li fanno ancora più grandi ancora più lunghi ancora più belli quello lì il samsung 8 è lungo così ce l'ha così invece è solo così ma fondamentalmente che cosa di bello sto telefono uno dice niente no ci sono dei punti di vantaggio anche se costa primo il prezzo costa poco e tu dici eh ma se lo copri più bello e beh dopo due anni devi cambiarlo comunque quindi preferisco andare siccome il budget è piccolo come il telefono ci teniamo bassi così perché io ho sempre la fobia uno di far cadere per terra le cose così si rompono due di perderle e mi è già anche successo di dimenticare un telefono sopra una panca il mio primo telefono era un bellissimo Alcatel italiano se parlo di 20 anni fa quasi però intanto ho lasciato sulla panca sono andato via quando sono tornato e mi sono ricordato ovviamente non c'era più per fortuna che era già rotto comunque l'altro vantaggio di questo telefono è che ha 3 giga di ram e tu dici che serve la ram tanto la puoi espandere un accidente perché nella ram di base quella fissa del sistema si vanno ad installare le app allora se installate videogiochi che tanto in questo catorcio qua in questo mattone non servono a niente finiscono sulla memoria espansa ma se volete delle app di base finiscono tutte almeno per il 70 per cento collegate al sistema operativo che sta sulla ram e quindi i miei 2 giga di ram del telefono precedente erano già saturi e rompiti le scatole a disattivare terminare distruggere cancellare le app che non ti servono ma comunque non basta mai la ram 3 sono meglio di 2 e sono meglio anche di 1 però comunque l'ideale sarebbe 6 giga di ram però quelli con 6 giga viva la giga raga però costa troppo e allora mi accontento di 3 l'altra cosa molto positiva di questo telefono difficile da trovare in altri telefoni infatti vedete che spesso voi prendete un iphone 7 lui è alto così è sottile sottile ma che cosa ha di frigatura che anche la batteria che è alta così sottile 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 che non potevi dire di no e dura la metà questa fa 5000 miliampere l'ho acceso e caricato la prima volta cinque giorni fa cinque giorni fa l'ho ricaricato per la prima volta oggi ok io non sono sempre attaccato a dire ciao come va come stai appa pippa tu patate insta pur no non faccio così io lo uso quando mi serve spesso ma non in continuazione comunque mi è durata 5 giorni a batteria e siamo sempre lì se avete la batteria da 3000 ampere fortunati voi perché sono tantissimi cavolo ma neanche lo shuttle c'è 3000 ampere di batteria ma se avete la batteria da 3000 milliampere è un po più della metà di questo e quindi vi dura un po più della metà il peso sulla luna è la metà della metà ma sulle batterie no non ci siamo è la durata quella che conta quindi questa mille ampere al giorno mille milliampere al giorno fa cinque giorni e si e mi sta bene perché dal lunedì al venerdì la devo caricare soltanto una volta e voi dite chi se ne frega ma tanto puoi collegarci l'espansore puoi metterci la batteria di riserva un bellissimo power bank da 10.000 si ce l'ho quello da 10.000 però ci attacchi questo ci attacchi la videocamera ci attacchi un'altra cosa ci attacchi qui ci attacchi la ci attacchi una lampadina per quando non ce vedi e alla fine si scaricano anche 10.000 quindi 5.000 più 10.000 io posso stare 15 giorni in campeggio con lo smartphone in un posto dove non prende quindi non mi servirà assolutamente a niente perché manca il segnale come dice la canzoncina di quello lì che una volta lavorava su mtv adesso si è messo a fare il cantante no takaji ma che non c'è campo e poi te la prendi e vabbè cambia campo raga oh comunque detto questo gli rimetto la cintura corazzata qua che è troppo bella ma soprattutto fa pandan con il mio vestito da cyberone che io l'ho comprata per quello e io l'ho presa per quello l'ho cercata nera arancio per il mio vestito nero arancio così fa tutto pandan tiro fuori lo smartphone dico va che figo il cyber con il telefono in linea e poi dicono che non sono la moda non sarò la moda perché faccio tendenza in realtà sarebbe bello fare violenza però è vietato togliamo gli effetti speciali che così sono più brutto ancora e quanti di voi hanno il mio stesso smartphone un bel moto e 4 plus in mega offerta speciale totale globale come vi trovate vi piace vi fa schifo vorreste cambiarlo ne vorreste un altro uguale lo regalate alla nonna perché che cosa succede quando io cambio telefono non è perché l'altro si è rotto più una volta facevo così siccome durano in eterno sti cosi adesso quando cambio telefono il mio telefono precedente in questo caso due generazioni prima lo do a mia mamma o a qualcun altro della famiglia che comunque mia madre non è che s'aggiorna tanto quindi adesso c'ha il suo primo smartphone ho messo tre giorni per spiegarle come si fa con le tendine tira su tira su e le tendine che c'entrano le tende con il telefono e no c'entrano e come queste sono tiri su tiri giù devo chiamarle dovrebbero chiamarle non tendine ma tapparelle perché tu le tende le sposti per così le tapparelle invece vanno su e giù quindi dite a team cook guarda come team cook che la terminologia che hanno inventato per descrivere questi cosi è sbagliatissima bisogna riscriverla completamente da capo come il codice anche quindi sviluppatori sviluppatevi meglio e con questo la recensione è quasi finita vi faccio solo vedere che sapete che in america la motorola è americana USA no quindi loro fanno tutto più grande fanno gli hamburger più fanno i panini più grandi i palazzi più grandi le strade più grandi fanno anche caricabatterie più grandi ora questo è il cinesino huawei che piccolo ce l'ha piccolo questo è l'americanone USA e quindi cioè guardate voi qua la differenza è proprio una questione fallica cioè cinese americano ce l'ho chianto tutto più grosso i cinesi ce l'hanno tutto più piccolo ma guarda che è vero eh tec eh voi non ci credete invece è la verità e con questa bellissima notizia Geo & Geo vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao ma io vi rimando anche in giro ma vi rimando anche a settembre che siamo a ottobre e quindi ci vediamo fra un anno ciao ciao